buongiorno da Gianluca e da mbstore.com voglio spiegarti la differenza fra una presa singola una presa duplex e una presa triplex la presa singola è quella classica che conosci già quella che può essere bipasso sciuco e che dietro ha tre morsetti per la fase il neutro e la messa a terra quella duplex e quella triplex sono in tutto e per tutto uguali a quelle singole soltanto che sono già unite e basta portare nella cassetta soltanto tre cavi per avere tre prese o due prese nel caso della presa duplex già perfettamente funzionanti la differenza con la classica presa singola è che se vuoi mettere due prese uno accanto all'altra o tre prese uno accanto all'altra devi fare i famosi classici ponticelli tra una presa e l'altra cosa che invece non è necessaria acquistando una presa duplex se vuoi due prese uno accanto all'altra o una triplex se vuoi tre prese una accanto all'altra le prese duplex e le prese triplex possono essere montate nei classici supporti e non hanno bisogno di un supporto particolare la biticino produce le prese duplex e le prese triplex per le serie matix e living light nelle tre colorazioni ave invece per il suo sistema 44 ha scogitato un altro metodo e cioè questo piccolo ponticello che si chiama appunto 442 ponte che serve appunto per unire due prese o tre prese o anche quattro del sistema 44 adesso ti faccio vedere come qui abbiamo due prese della serie domus del sistema 44 dell'ave basta come vi dicevo prima inserire questo ponticello all'interno dei morsetti della presa per far sì che diventi una presa duplex se volessimo aggiungere un'altra presa basta metterne un'altra accanto prendere un altro ponticello e inserirlo dentro per farla diventare una presa triplex seguici sui nostri canali facebook twitter e google plus se hai altri dubbi o domande puoi scriverci alla nostra casella di posta elettronica info chiocciola mb store punto com o postare un commento sul nostro canale youtube un saluto da gianluca e da tutto lo staff di mb store